questo pomeriggio con i giornalisti e con la nostro assessore la valentina graziosi il nostro re biscottino sandro ha dato la sua corona al nuovo re che la presa con onore si è iniziata una giornata diciamo abbastanza dura perché la giornata da oggi pomeriggio a questa sera abbastanza dura però ce la posso fare sono molto felice di questo 2017 veramente è stato un anno straordinario partecipato alla grande veramente 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 abbiamo avuto una svelata meravigliosa piena di gente di calore di simpatia di amicizia di stima bellissimo veramente un materiale eccezionale sono arrivati da noi tutte le maschere più importanti d'italia quindi è stato successo anche per quello e tutto questo ci ripaga di tutte le fatiche di tutto il lavoro che è stato l'organizzazione di quest'anno io qua con me gli ultimi ospiti ho qua con me i miei amici che arrivano da vicino torino c'ho la bertolla san sebastiano po e andezeno e insomma sono molto contenta e onorata di averli qua con me e poi i dulcis in fundo abbiamo qua il dencio e la marianna di cavallirio della provincia nostra di novara o una parte della mia corte niente è finita è finito questo 2017 però noi già venerdì siamo a tronzano sabato ancora domenica da qui termine noi continuiamo tutto l'anno come ho sempre detto siamo sempre in giro rappresentare la nostra meravigliosa città con molto onore vero e andremo avanti ancora 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 sempre di essere venuti alla prossima volta io sono io sono la maschera non sono la maschera di cavalirio e io sono la mariana e lui al dencio orgogliosi di avere una stretta amicizia con la regina il re passo al dencio dice ciao 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 perché ha già detto tutto la mariana sono contento anch'io di essere qui ad ora a rappresentare il cavalirio grazie grazie grazie